Eccoti, Viviana, ho saputo che hai parlato di me, male, dopo che ti ho raccontato tutta la mia vita, tutti i particolari, tu cos'hai fatto? Le hai messo in giro su internet, brava, e tutto questo perché cosa? Per distruggere l'amicizia tra me e te? Io? Ma quando mai? Ah no, e chi? Io? Quella tua amica, Anna, quella stronza. Lascia perdere Anna, ma tu è vero che hai fatto queste cose? Sì, è vero, ma non tutto, se ci tiene la nostra amicizia, poi ne parleremo, è una cosa grande, più grande di me. Adesso me ne vado.